No vabbè ti voglio bene ma questa domanda è troppo difficile Ma questa domanda è troppo difficile Quindi ragazzi, non lo so, speriamo che questo video sia giusto Ma senta, mettiamolo a voi nei commenti Rispondete voi a questa domanda e non riesco a rispondere Dove andate raga, non c'entrate più davanti Non c'entrate più davanti Buona gente, sono Wolf Lavor e benvenuti in questo nuovo video in compagnia di Giulia Ciao Ciao E no, andiamo così Si, abbastanza tardi E già sono venuti a rimproverarci Perché abbiamo fatto troppo casino Per un video che ha registrato Charlie Tipo quasi mezzanotte Sì mezzanotte, minchia Sotto la mia ultima foto di Instagram Che quando vedrete questo video non sarà più La mia ultima foto di Instagram Vi avevo chiesto Vi avevo chiesto di farmi le domande con questo O quello e quindi adesso risponderemo Questo! Quello o quello? Io questo, io quello No 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 Quest'altro Quello lì No no l'altro Io questa Ma anche quella Sei rossa Bene allora dietro con la videocamera che voi non vedete C'è il nostro super ragazzo Ciao Regista Matteo Fire Sento il 97 Perché in realtà è sempre mentito sulla sua età E' nato 50 anni prima 47 anni Si, volta bene Esatto Niente quindi lui ci leggerà le domande più fighe che ci avete fatto Vai! Questo è quello porcore? Siene bellissime Grazie Questo o quello? Quello? Siete, prima siete Pronti? Vai! Tillo o Tallo? Tillo Tallo 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 perché tu sei Tallo Io ho detto Tallo perché tu sei Tallo Grazie Diciamo questa cosa che io nella sua rubrica mi chiamo Tillo E lei si chiama Tallo Mentre nella mia rubrica lei si chiama Anne Mentre nella sua rubrica io mi chiamo Marie C'è Anne Marie Eh Cari? Ho sempre in pi 80 Io ho Ma che scusate ignoranza che è Anne Marie tipo Zack e Cody? No 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 no, cantano Non è nei, nei nei di quelli dal concerto Grazie a Alessia, che adesso Alessia io ti amo Di chi ha finito amore Vai Prossimma Vai Uccidi Giulia o Teo? Teo 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 C'è alcuni valo Mi ha illuso Bagash dobbiet Kemper o instagram? che raga al coro proprio figli o soldi? soldi! dipende dai figli, dipende dai soldi poi io per i soldi mi compro i figli mani, 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 mani li shopi tipo Crash Royale con i bauli allora oggi mi esce, si il bambino leggendario si amicizia o soldi amicizia soldi si è singola cerco un amico scrivetelo push up o reggisio normale reggisio normale perchè qui c'è la fregatura vedi lì mi ha questo però lo indossi però lo indossi io non ho push up lo indossi? no, non ha push up allora è... un semplice tatto l'hai scoperto mica gliela hai visto? no, no viviamo insieme tutti i giorni raga, questa vi farà litigare tantissimo salveresti Charlie o Anna? no, io volevo dire salvate Charlie Charlie Anna è morta tutta mi dispiace salvere prima Charlie e poi cercare subito di salvare Anna non vale così si è scamotaggio si è scamotaggio mare o piscina? piscina mare puoi fare la pipì io la faccio anche in piscina che schifo manzi manzi o lupi i manzi i manzi si mangiano i manzi si mangiano ti ammazzo ti ammazzo chi ha arruttato? Anna o Charlie? Anna che bella è questa domanda mi ha fatto ridere tette o culo? tette culo 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 cuore il pane ghiacciolo all'anice o all'arancia? all'anice amarena che anice? l'anice ma chi si mangia? è il mio ghiacciolo preferito arancia questa domanda era di graisse quella domanda era di graisse raga pronti? pan o amici? tutti amici destra o chiappa sinistra? destra siamo tutti fascisti ragazzi se si offrende destra e poi c'è lui grandissimo ma che viene al romix io questo è quello romix o games week? romix ci sono i gatti questo è per giulia yaoi o yuri? yaoi yaoi sono i gay maschi yuri sono i gay femmine yuri yaoi minchia yaoi basta yuri Giulia per voi come li vedi? mi faccio poi in un ragazzo guardate più il sorriso o gli occhi? occhi che cazzo? no scusa è il sorriso occhi occhi grazie ragazze l'occhi non lo so guardi ragazze guardiamo l'occhino io guardo Alessia Alessia ti amo te la faccio vedere università o youtube? università ma io non lo so non ho ancora fatto università però la youtube per forza allora sono cose completamente diverse che senzio no però cioè proprio perchè sono diverse tu cosa preferisci? non lo so perchè mi piace tanto tanto esatto perchè mi piace però non lo so perchè faccio io perchè faccio io con l'università non ci lavoro quindi ci lavoro proprio qui io non ci lavoro con youtube nooo se raga a 10.000 like muro commessa al mac si commessa al mac o al burger? al burger king burger king mcdonald mcdonald burger king no burger king è pezzi più bassi perchè capelli ricci o lisci? lisci mossi non si è capito niente raga tutti in sé lisci lisci come quando mi sveglio che mi sono legato ai capelli e lì l'occhio o Teo l'occhino il bocchetto Teo grazie sono qua io ciao sono qua pure io Teo tutti e due rossetto rosso o di un altro colore rosso di un altro colore beh dipende dalle occasioni oh e basta ma che mi spiega che scrivo ragazzi questa domanda che avrebbe senso ma c'è una lettera che non dà senso la cosa è questa avere dei piedi te la leggo come sarebbe essere giusta ok avere dei piedi di taglia 60 ma profumati o avere dei piedi di taglia 39 e averli puzzolenti un mondo senza musica o essere sordi anche perché se sei sordo non senti la musica quindi comunque non ha senso infatti non ha senso però non senti nient'altro però sai che c'è la musica e tu non la puoi sentire iscriviti al mio canale no sordi io sorda se sei sordo ti puoi direi la musica te no io cosa sono sacrifico no sai che dico sai che dico sorda perché i sordi possono sentire tipo le vibrazioni non c'è miglior sordo di chi non vuol sentire peggior meglio ok sorda sushi o pizza sushi insieme ah no sushi sushi no dai oh 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 sushi perché prima faccio la pizza sushi dai sushi ormai non la pizza non la sushi però la pizza è buona sushi 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 dipende dalle occasioni pronti vani Harry Potter o Hunger Games Harry Potter ecco un muro lei è Hunger Games è inutile che adesso cerchi di non rispondere per fare un piacere lo sappiamo che preferisce Hunger Games anch'io no mi piacciono tutti e due in realtà ah mi piace tantissimo Hunger Games però ancora non ho finito vabbè io dico Hunger Games non è della mia tesina del quinto spedio che ho quattro io il design il design hai fatto lo sai che hai fatto ho fatto il design ciao Leon ha fatto il design manco della sua l'ha fatta quella di muro l'ha fatta Peo la tua ciao Peo vai vai l'italia o estero estero però dipende mi piace l'italia è bella l'italia dipende per lavorare l'italia è bella però dipende dai punti di vacanza è bella se è indecisione su ma sono troppo difficili queste domande i cavalli si ma è una smontaggina ah ta 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 che noia o giulia 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 no dai non lo vedi no non lo vedi ma non lo vedi ma non lo vedi ma non lo vedi dipende dei disegni sicuramente meglio giulia questa è tostissima Anna questa è per te xina o lexa no 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 io dico lexa lexa con lingua lexa lex però mamma sai che ci ho pensato e lo so lo so perché ci ho pensato si anche con me ne hai parlato ero io lex lex si te l'ha parlato figure di lex lex la da dario raga io vorrei fare un avviso a tutti quanti quelli che hanno parenti o qualcuno al cinema se vi avanza un cartone di baywatch con alessandra da dario quello tipo che è quello che c'è lego e ma stai siccia è chiantissima ma alessandra da dario vabbè portatemi contattatemi mp97 su Instagram vorrei fare anche un appello se vi visite da lex voi vi abbracciatemi raga pronti vai ragazzo sardo o ragazzo siciliano nessuno dei due grazie siciliano non mi piace di più è l'accento siciliano ma sei cazzo ti odio tutti e due sono bellissime ma no siciliano è più fico è più non lo so come ragazzo ovviamente si come i ragazzi ti parla dell'accento 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 quello siciliano eh appunto diecento sardo ok chiudere il canale e ricevere dieci milioni di euro ottenerlo ma non ricevere i dieci milioni 10 milioni 10 milioni sono la vita ma chi guarda l'angliana sbagliata ma c'è la raga sono dieci milioni sai quando vedete dieci milioni in vita vostra mai lo so però che brutto chiudere il canale poi lo riapri vabbè poi la chiudelo riapro eh ma che ve l'ho riapro cos'è se fosse raga faccio un video dove dico ragazzi tutti guardi iscrivetevi qua che chiudo sto canale esatto 10 mila euro lì ehi ehi una macchinetta si è spenta giappone o america 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 giappone dipende da che punto guardi il mondo tutto dipende questo o quello america america come dire hamburger o sushi non lo so non è vero non lo so america soltanto perchè c'è la visia ok vai borsa o zainetto 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 e c'è la borsa te eh lo so zainetto zaino ti amo zaino torna nelle one direction ti prego non so vero zaino aspetta fai tornare nelle one direction e poi torna a me zaino una direzione ha detto non 5 cacchio charlie questo è per te vai patata rossa o patata blu rossa non so quanto possa essere utile patata blu perchè di sandrea ma non vale questa cosa e che vuol dire è un video che hanno fatto loro quello che è castello ma continuano di rondello si dai fai un altro mio zio che fa karate si 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 che la karate gonna o pantaloni 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 si hai rotto hai rotto devi prendere pantaloni 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 mascara o matita per le sopracciglia ma te hai da pelle sopracciglia 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 si charlie nuda si skin si come skin l'ultima 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 davvero l'ultima l'ultima ma sono belle però sono così nel senso bambole o calcio è come se dici kinder cereali o corso di canottaggio cioè corso di canottaggio muovere come timmeno tutta questa di canottaggio non lo so come te rivisti vivere in un posto isolato ma in compagnia o vivere isolata in una grandissima città? non ha molto tanto perchè se sei in città non sei isolato non sei isolato ma in compagnia ti muovi c'è il treno c'è la macchina diciamo ma isolato non c'è niente E' un'isola deserta Cioè in energia di due settimane mori da fame No Chiami gli approvvigionamenti Io ce l'abito isolata Però sono comunque in compagnia perché ho una grande famiglia Poi se voglio spostare mi vengo qua a Roma A Roma Raga Harry Potter o Sushi Sushi Carottaggio Raga l'ultimissima Questa è esistenziale per Charlie Forse anche per Muro Però per Giulia no Neanche per Anna Libri o film Film Libri Libri Non lo so Io ti odio Che hai fatto questo e come se non ho fatto la domanda Non lo so Aless88 trattino basso se escheri Nonostante non è grande Aless possibile Aless88 trattino basso Basta Io ti odio Disiscriviti al canale No è vero ti voglio bene ma questa domanda è troppo difficile Quindi ragazzi Non lo so Speriamo che questo video Non è tanto Dite solo a voi nei commenti Rispondete voi a questa domanda E non riesco a rispondere Sì Sì Sionimo Stilton Ma tanto io quando le dico Non lo fanno male Perché lo dico sempre alla fine dei video Nessuno lo dico Non ci penso io Ora voi rispondete questa cazzo domanda Perché se no muro vi picchia E anche io Esatto Va bene fammi vedere il video E niente il video finisce qui Ciao 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 Ciao